Assessore Diodati, il trasferimento in altra sede a Sassari per la precisione del sovrintendente d'Abruzzo di Gennaro potrebbe arrecare qualche problema alla ristrutturazione dello stadio adriatico quando sembrava che potessero esserci davvero i motivi per essere ottimisti. A questo punto cosa potrebbe accadere? Riprenderemo il percorso con il nuovo sovrintendente. Credo che nel giro di qualche settimana ci sia la volontà di andare a parlare a Roma con i vertici del Ministero perché siamo arrivati, sono due anni che noi come amministrazione comunale stiamo cercando di andare dietro per vedere e valutare la possibilità che questo investimento importante possa essere fatto. Credo che è arrivato il momento di mettere la parola a fine, nel senso che in un verso o nell'altro nell'arco di un periodo di tempo relativamente breve vorremmo cercare di sapere se è possibile e creare questa nuova infrastruttura su Pescaro. Non tornerete indietro comunque? Ma no, non torniamo indietro perché noi abbiamo puntato sin dall'inizio su questo progetto che non è un progetto solo relativamente relativo al discorso del calcio, dello stadio insomma è un progetto di riqualificazione di una zona importante della città che vive delle difficoltà per cui sicuramente non torneremo indietro.